Musica 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 Così Ma sto fermo Non è più dentro di girare a testa Ma non salva Ma non salva Ma non salva Ma vabbè è normale Musica Com'è Luca? come si fa? allora va lascia diventare tutto diventiamo ma che cazzo ma che cazzo eh, Cristian fa una cosa assurda va dritto si frema e gira qui guarda 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 cosa serve hai detto tu che devono lavarsi tutti no no no